Ok, questa è una prima prova per vedere il dolly zoom, che è quell'effetto al cinema in cui, diciamo, il soggetto rimane fermo e tutto il resto invece viene zoomato attorno a lui o viceversa. È un primo tentativo, non è uscito perfetto, però dai, sempre meglio di niente. Not bad.